Lo sapevate che Tom Cruise nel film Mission Impossible nel ruolo di Ethan Hunt portava al polso il casio DW290? Il film fu diretto da Brian Nepalma e uscì nelle sale italiane il 13 settembre del 1996. Il mio contatto è molto diffidente. Non credo che tu sia nella posizione di dare ordine, ti pare? Non finché io ho questo. Krieger. Silenzio. Dici questo? Quella non è la lista. Come sarebbe? Non hai mai visto questo trucco? Dove è finito? È sparito. Ma che... Tu. No! No? No! Eccolo qua. Lo so che pensi, Krieger. Stai pensando, nella stanza del computer io ero sopra, lui... lui era sotto. Ti stai dicendo... Aveva due dischitti. È così difficile tenere il conto. Dov'è? Credevi davvero che ti avrei lasciato la lista dei knock? Prova a fare il furbo con i miei soldi e ti taglio la gola. Eri di nuovo in missione di reclutamento? Dove ti hanno sistemato questa volta? Al plasma? Draco, te. Ci calma. Oh, punitivo! Scusami. Krieger l'ho portato io. Mi dispiace. Abbiamo fatto... Quello che andava fatto. Vado a cercare di dormire un po'. Eccolo che andava a cercare di dormire un po' sullivan. Eccolo più. Krieger ce l'aveva alla lista. Grazie.